Ciao a tutti, sono Momoko88 Oggi sono qui con un nuovo video un po' particolare, un po' diverso dal solito Si tratta di una kawaii review, però non è un giocattolo Da no, non va vero, ma non è un giocattolo Allora, sembra che non c'è niente da recensire, ma era per creare un po' di suspense Quello che recensisco oggi è questa bellissima cover Super mega kawaii Questo video per l'appunto è in collaborazione con il sito La Tua Cover Personalizzata Vi metto qui l'indirizzo del sito, ma lo trovate anche in descrizione Per fare una piccola introduzione Allora, dovete sapere che io ho sempre avuto un telefono scaccione Fino a poco tempo fa Era uno smartphone, ma di quelli del 2010 Cioè, quindi faceva abbastanza schifo in sostanza Da una parte mi ero anche abbastanza imposta di non acquistare uno smartphone Perché avevo paura che prendendo uno smartphone e avendo quindi internet sul cellulare Mi sarei distratta troppo e ci avrei perso troppo tempo Visto che già quando sono a casa Perdo un sacco di tempo al computer Tra Facebook, Youtube e bla 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 E quindi mi sono sempre... sono sempre stata ferma Sono a mia posizione dicendo No, non voglio essere camparmista Avrò il cellulare senza internet per la vita E invece no, purtroppo sono cascata anch'io nell'oblio In questo circolo vizioso E quindi... Circa un mese fa ormai Ho preso un nuovestimo smartphone Che lo presentiamo qui Voilà È un Nasus Zenfone Selfie Ho scelto questo telefono principalmente perché ho detto Se devo avere un smartphone, devo farmi delle belle foto Visto che sono tanto bella E quindi ho anche aperto il mio profilo Instagram Che vi metto qua comunque il link Se non l'avete ancora visto l'ho collegato comunque al canale Comunque bando alle ciance Ho preso questo nuovissimo telefono Ma ci mancava il tocco in più Ci mancava una cover kawaii Ovviamente Perché come ricordate Hashtag kawaii è meglio Yeah E quindi arriviamo al punto del video Ho trovato questo sito meraviglioso Che ripeto Si chiama la tua cover personalizzata Che appunto puoi personalizzare la tua cover Ci sono un sacco di modelli Puoi scegliere un'immagine che ti piace L'immagine viene stampata sulla cover Poi ovviamente verrà spedita E avrete la vostra cover personalissima E quindi questa è la cover che ho creato Ho trovato questa adorabile immagine di Cinnamoroll Su questo unicorno Molto kawaii Molto dolce Con questi colori pastello Bellissimi E quindi ho detto Ok questa è l'immagine perfetta Per una cover kawaii degna del suo nome È stampata molto bene È una plastica rigida Ma comunque anche abbastanza flessibile Ed è facile inserire la cover sul telefono Faccio vedere subito Eccola qua Vedete che è stato abbastanza semplice Tiene il telefono Direi molto bene E adesso anche il mio cellulare è kawaii Volevo farvi vedere orientativamente Come è strutturato il sito O come comunque bisogna fare Sul sito ci saranno i vari modelli del cellulare Scegliete il vostro Io ne scelgo uno a caso Giusto per farvi vedere Lo cliccate Verrà fuori personalizzo Poi bisogna schiacciare su Personalizza il tuo prodotto E si apre la finestra dove possiamo personalizzare la nostra cover Appare la sagoma della cover del vostro smartphone Qui di lato potete scegliere se mettere un colore di sfondo Caricare un'immagine O scrivere anche un testo Oltretutto l'altra cosa figa E' che potete creare vari strati Quindi sul primo strato Mettere l'immagine Poi crearne un altro E magari scriverci qualcosa In modo che proprio la vostra cover Sarà super personalizzata E nessun altro avrà la cover simile alla vostra Ecco io ho scelto questa immagine Come vedete potete posizionarla dove volete Potete zoomarla O anche zoomarla per renderla più piccola E alla fine dovete schiacciare Salva la personalizzazione Si aprirà questa finestra Che vi farà vedere in anteprima Come sarà la cover finale E in fondo qui c'è scritto Aggiungere il carrello Quindi poi basterà schiacciare il pulsante E avrete fatto il vostro ordine La spedizione mi sembra che sia gratuita Devo ringraziare moltissimo Il sito La tua cover personalizzata Che mi ha permesso appunto Di recensire per voi Questa bellissima cover Inoltre sono stati gentilissimi Perché mi hanno dato anche un codice sconto Per voi Che è Ve lo scrivo comunque qua sotto A B O P A R T 10 Che vi permetterà Un 10% di sconto Sulla vostra cover personalizzata Mi raccomando Non fatevi scappare questa occasione Direi che non c'è altro Da dire Perché Vi ho fatto vedere la cover È bellissima Vi ho fatto vedere il sito Più o meno come funziona Quindi direi che per oggi è tutto Ci vediamo alla prossima recensione Non saprei che altro dirvi Se non Stay Kawaii Ciao 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 Grazie a tutti.